La stare comica di Luz Women Judy, 41 anni, ha salutato il duca di Cambridge come carino e ha detto che continuava a dirgli che sembrava scivoloso Judy Love si è aperta sull'incontro con il principe William per la prima volta, in particolare sul fatto che gli sono piaciute le sue battute a spese del primo ministro Boris Johnson. La stare comica di Luz Women, 41 anni, ha salutato il duca di Cambridge come carino e ha detto che lei continuava a dirgli che sembrava scivoloso. Ha anche rivelato che è stata costretta a ripulire il suo materiale e che c'erano alcune parole che non le era permesso dire. Apparendo al Jonathan Ross Show questo sabato, Judy parla dell'acquisto della sua prima casa per sé e per i suoi due figli. Sto cercando, scegliendo con loro, dice. Penso che, essendo sto cercando di dirlo senza piangere. Penso che, essendo anche un genitore singolo e provenendo da un ambiente della classe operaia, tutto ciò che ho conosciuto è stato un duro lavoro, sono stato in case popolari, come molte persone, una delle cose, lavorando in quella zona, certe scelte ti vengono tolte. Avere quella scelta di dove vivrò. Non fraintendermi, non si tratta di non apprezzare il supporto che ho avuto in precedenza. Punto. Continuando a ricordare di essersi esibita al Royal Variety Show, scherza, ero tipo, sanno chi hanno prenotato. È stata una sensazione incredibile. Ho dovuto ripulire un po', il mio materiale. Non mi era permesso dire la parola ginecologo, non so perché. William è carino, sai. Kate sei fortunato, stavo parlando con lui di Boris. Stavo imprecando su Boris. La mia battuta su Boris gli è piaciuta molto. Gli stavo dicendo che era elegante e aveva un bell'aspetto. Kate, lei è così sbalorditivo, così naturalmente bello. Aggiunge, continuavo a chiamarla cara. Ho detto, mi dispiace tesoro. Ma lei era tipo, va tutto bene. Molto bello. Asterisco il Jonathan Ross Show va in onda sabato alle 21 su ITV.